In manette 22 persone in un'operazione dei carabinieri condotta a Napoli contro il traffico della droga. Nel corso della prima indagine, i militari del nucleo investigativo del comando provinciale hanno dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione di settuale antimafia nei confronti di 15 indagati cui viene contestata l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, porto e detenzione di armi e utilizzo di documenti di identità contraffatti. Nella seconda operazione, i carabinieri della Compagnia Stella hanno dato esecuzione a sette ordinanze per associazione finalizzata al traffico di droga e di detenzione di armi clandestine. In un caso, le attività di indagine sviluppate dall'ottobre del 2015 hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei componenti di un gruppo di narcotrafficanti in Campania e in altre regioni. In un altro caso, l'indagine ha permesso di far luce su una piazza di spaccio nota.